L'app che presentiamo oggi è stata sviluppata da Oasis, che è una start-up innovativa, che ha subito sposato l'idea di questo progetto del gruppo Imprenditrici Venete. È un'app che raccoglie tutte le informazioni delle aderenti, quindi è possibile trovarvi sia su un mappa che su un motore di ricerca dedicato, tutte le schede delle varie attività imprenditoriali che hanno aderito all'idea. E poi è possibile per le imprenditrici, attraverso l'accesso a un'area riservata, gestire tutta una serie di contenuti, oltre a tenere aggiornata la loro scheda attività descrivendo i loro prodotti e servizi, possono creare dei buoni sconto su un doppio circuito, sia aperto a tutti gli utenti che possono scaricare gratis l'app e sia riservato alle altre imprenditrici con una scontistica superiore. Possono poi inserire degli annunci dove cercano, offrono, scambiano varie tipologie di servizi tra loro, oppure annunci di lavoro per la ricerca di personale. Possono poi creare anche delle liste di prodotti e servizi per andare ad arricchire ancora di più la loro scheda attività. Ad esempio un ristorante può creare il suo menu, un'azienda di servizi può elencare i servizi che offre, volendo indicando anche il prezzo per ognuno. E poi l'utente su ogni scheda attività, dopo aver navigato sulla mappa o aver effettuato una ricerca, potrà contattare quell'attività tramite un modulo di contatto apposito, dove può richiedere per esempio di effettuare una videochiamata o di essere ricontattato telefonicamente o di effettuare una visita in azienda. E nel caso in cui questa abbia inserito anche questa lista di prodotti e di servizi, potrà già selezionare i prodotti e i servizi a cui è maggiormente interessato. Quindi diventa uno strumento di booking, una sorta di vetrina con delle funzionalità che possono interfacciarsi appunto con un booking, con un e-commerce esterno e dare all'azienda la possibilità di farsi conoscere e di trovare nuovi clienti o anche di fidelizzare quelli già acquisiti.